buongiorno 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 allora allora è tornato romelu lukaku e sento tanta gente che lo critica vabbè allora è tornato romelu e io sinceramente da una parte sono contento perché è un ottimo giocatore è un giocatore che ti può fare 20 25 gol stagionali è un uomo che in attacco farà farà la differenza giocatore utile fisico edificio da portare il pallone è la coppia d'oro di conte di lukaku lontano martinez e sento persone che non sono contenti io dico la vita io rispetto del vostro il vostro pensiero ma dall'altro lato quando sento dire mercenario no no perché secondo il mio punto di vista se lui fosse stato veramente mercenario sarebbe andato in società che lo pagava il doppio allora lì si dice cacchio cioè allora non so accessi prendono 12 e una cavolata bayern ma ne prendo 16 alla lì si ma quando lui torna all'inter si dimezza parecchio lo stipendio sono otto più bonus adesso al celsi non so quanto prendeva 12 13 sono non lo so e lì e la metà ragazzi adesso con tutto il bene che posso posso avere per le persone che criticano romelu non non sono d'accordo ovvio si si deve farmi perdonare e già già quello che ha fatto per me è una prova molto importante certo che è andato via diciamo in malo modo ascoltando pastorello e mi auguro che che romelu ritorni il romelu di un anno fa quello devastante quello che ha fatto sognare la curva nord noi tifosi so che sarà difficile perché non credo che diciamo la curva lo come dire c'è sigo quando finirà esultano perché segna per l'inter ma non è più diciamo il big rom o le ore che gli hanno fatto il murale a san siro quello si sarà un giocatore come come tutti gli altri quello che ha detto la curva nord che rispetto però non condivido perché comunque gli errori si fanno ragazzi c'è chi chi non ha mai sbagliato nella vita credo un po tutti e perciò ha sbagliato anche lukaku ha sbagliato a dare retta a pastorello che l'ha già ammazzato con con tanti soldi però è andato in un ambiente che che l'hanno preso in giro insomma la caca in tutti i modi e per per un giocatore non non è semplice perché quando tu non hai la fiducia del tecnico e soprattutto dei compagni tu non rendi non c'è verso è come io vi faccio un esempio è come se voi cambiate scuola ok cambiate scuola andate non so in un paese diverso e pensate di ritrovare diciamo quel con l'ambiente che avete trovato nella scuola vecchia e non è così ragazzi e lukaku ha fatto la stessa cosa lukaku ha sbagliato ha capito di aver fatto una cagata ha fatto di tutto per ritornare e e io lo raccolgo a braccia aperte però mettiamo i paletti attenzione se lukaku farà la merda andando via in malo modo tra due tre anni perché l'inter lo riscatta quello poi ci mette una croce cioè veramente poi non non voglio più saperne questa volta da parte mia ti perdono altri tifosi non lo so da parte mia hai il perdono fino a un certo punto poi discorso di bala discorso di bala io sento tanta gente no ma va a milano che state giornalistiche che poi sono vergognose mamma mia cioè veramente io evito di leggerli perché mi incazzo perché poi mamma mia vorrei chiamarli e insultarli però non posso e perché l'inter ha un accordo su con paolo di bala ok di bala dovrebbe arrivare all'inter tra poco ok il problema dove sta che l'inter ha troppi attaccanti e dal momento che uscirà sanchez entrerà paolo di bala ma sarà questione di ore questione di massimo di qualche giorno poi di bala sarà un gioco dell'inter almeno da quello che penso io io non ho fonti però vedendo quel che ha detto anche materazzi e altre persone nel mondo inter hanno fatto capire che che di bala è ormai giocatore dell'inter poi posso sbagliarmi attenzione però io da quello che ho capito per me paolo di bala sarà un nuovo giocatore dell'inter e con il trio lukaku di bala e lautaro martinez ragazzi scusate ma avrei un po paura se fossi i difensori delle altre squadre ok è questo il merito anche della società perché ragazzi allora in tanti hanno criticato marotta ok marotta ha una pecca solamente che non riesce a vendere i giocatori meno importanti tipo gagliardini lo stesso vidal e questo per me non va bene però è il numero uno a prendi i giocatori a zero tipo galiani marotta ha fatto un super lavoro per riprendere lukaku per prendere di bala a parametro zero perché è un grande colpo perché andare a prendere di bala come il minimo dei 60 70 milioni euro ad oggi perciò prendo a costo zero gli paghi solamente l'ingaggio è un affare della madonna ok poi arriveranno bellanova onana michitalian aslani e poi vediamo le eccezioni perché si parla di devrai ci parla di dan frist si parla di screener ma per me screener rimane rimane rinnova e fascia da capitano questo l'ho sempre detto poi sbaglierò questo è il mio pensiero e poi per concludere il video volevo dire una cosa che veramente io non sopporto cioè a me sarebbe la carogna quando quando sento youtuber che non aspettano altro di fare views e iscritti portandosi magari possono avere anche ragioni ma adesso come adesso tutti questi giocatori che ho citato gli sta pagando su ring non sta pagando aramco o chissà chi gli sta pagando su ring ora io io posso capire che l'uomo senza volto e tanti altri che ce l'hanno a morte con su ring a prescindere perché vedono che su unica smantellato una squadra minchia o cioè io mi sono svegliato e l'inter non c'è più cioè ha smantellato allora andato è andato via di avrai dato via scrive è andato via bastoni è andato via ballare è andato via l'autore sono andati veduti per loro è così cioè appena sentono un possibile interessamento per non lo so per l'autore martinez o per scrignano è già venduto è già venduto e poi chi d'accorda senti dire io te l'avevo detto perché cina devono vendere però quando era appena arrivato ok già subito qualche video contro il cinema parole su e non parole mie hanno fatto la critica a su ring perché poteva fare di più però ma se allora sei dal momento che le regole dicono che non puoi come dire mettere capitali di di tasca tua sul non può però ne ha messi per comprare i giocatori per rifare l'impianto alla pinetina la nuova sede e contato non mi sembra che è lì con la colpizza e fichi cioè parliamoci chiaro cioè si stanno facendo passare sul link come un pezzente come mai fatto nulla come dire al bene dell'inter e non è così perché comunque in sette anni che sono all'inter 67 anni ci hanno riportato giocatori importanti un mister importante come Antonio Conte siamo tornati a vincere siamo arrivati nel finale di Europa League insomma i meriti sono sono loro parliamoci chiaro poi che purtroppo c'è stata questa cacchio di pandemia ha distrutto praticamente tutta l'economia quello è un altro paio di maniche cioè se la Cina si impunta dire no tu non puoi mettere capitali nel come dire nella società inter quelli che ti tagliano le palle cioè se tu vai contro al governo cinese ti tagliano le palle ecco perché quando io ho fatto una litigata con un ragazzo che a lui è un fungo auto a priscindere ok gli ho spiegato la domanda ascolta se allora governo cinese non vogliono che su un'idea mette i capitali nel calcio italiano ci sarà un motivo o no e in qualche modo il mercato lo devi fare e qualche big lo devi vendere discorso discorso diverso per altre società tipo la juve perché è di famiglia questo è il discorso poi anche questo mercato non mi sembra che sunning non sta spendendo anzi sta prendendo delle occasioni a parametro zero e che occasioni ragazzi michi italiane onana dibara ha fatto una magia per lukaku io non posso di nulla quello che il contesto è la poca presenza raramente parlano e questo non va bene perché nel calcio italiano ci mette sempre la faccia e ti fa sentire quello sì quello può poter essere anche anche d'accordo con voi ma da qui a farli passare come dei pezzetti no cioè veramente mi girano le palle smettetela perché se noi in questi eh sei anni siamo tornati in champions league abbiamo vinto lo scudetto abbiamo vinto la supercoppa italiana la eh eh la coppa italia siamo arrivati in finale di europa league eccetera 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 datiere ci vedete di Marotta è merito di questa società e di Marotta perché se Marotta è con noi chi li ha portato Marotta? Suning Conte chi l'ha portato Suning Poi Gli altri giocatori Chi l'ha portato Suning Portate rispetto Con questo vi saluto Mi raccomando Stiamo calmi Secondo il mio punto di vista E persone Vicine all'Inter Paolo Di Bara sarà Un Giocatore dell'Inter So che Tanti youtuber milanisti Faranno video Su Di Bara Un possibile Arrivo di Di Bara A Milano Per me non sarà così Perché uno Di Bara ha L'amicizia con Marotta E' amico di Lautaro E' amico di Correa E' amico di Del Cuccio E' amico di Zanetti Perciò Non credo che Che vada a Milano Poi io Per l'amor di Dio Io spero di no Però Vedremo Dai Sempre forza Inter E' amico di